Solo un'autentica conversione al Vangelo porta all'amore fraterno e al perdono e l'evangelizzazione profonda resta per voi il primo obiettivo per arrivare ad una vera riconciliazione sociale. Lo ha detto il Papa ai Vescovi del Burundi riferendosi alle contese etniche che travagliano il paese africano. Ai Vescovi al termine della visita ad Limine il Papa ha chiesto di intensificare gli sforzi per una sempre migliore formazione del clero e del laicato e ad unire strettamente evangelizzazione e promozione umana perché la povertà è un ostacolo al sviluppo autentico e fomenta discordie.